Noi abbiamo incontrato le banche, successivamente a questo incontro che abbiamo fatto anche con il sindaco di Piombino, le banche hanno firmato l'asseveramento, l'asseveramento consentirà di sbloccare le risorse e poi di procedere già nella prossima settimana alla stipula del cosiddetto 182 bis e quindi il Natale non si preannuncia negativo né per gli operai né per le aziende dell'indotto che sono a credito nei confronti della Lucchini. Con queste risorse che si sono sbloccate con l'asseveramento sarà possibile anche riprendere la produzione nelle forme e nei modi che poi deciderà il nuovo gruppo dirigente, anche perché il passaggio successivo sarà appunto la nomina di un amministratore delegato per questo periodo, quello previsto dal piano di ristrutturazione di circa due anni, durante il quale ci sarà anche la ricerca di un nuovo partner. In questo senso noi vogliamo sviluppare, come abbiamo già cercato, anche con l'assessore Simoncini, un tavolo con il Governo perché anche il Governo nazionale abbia una posizione sullo sviluppo della siderurgia nel nostro Paese. quindi non è certo una situazione felice né rosea, però è una situazione sulla quale si sta lavorando.